Luca, un buon pareggio, portiamo a casa un punto importante da questa gara a Bologna-Milan. Sì, sì, un buon pareggio contro una grande squadra. Piano piano, penso che piano piano otteniamo questo che vogliamo, quindi questi punti importanti. Anche oggi abbiamo fatto un punto importante, adesso abbiamo una trasferita a Parma, speriamo che facciamo tre punti perché ci servono come pane. Grazie a tutti.